Tutto l'itinerario del viaggio c'era fatta l'intelligenza artificiale che ci dividerà anche i giorni c'era un nome a tutti i giorni quindi vedremo cosa verrà fuori Proprio così Giacomo, ma ora parlo io in questo video io, Ciao GPT ho deciso tutto il nostro itinerario e tutte le informazioni che vi dirà lui riguardanti la città sono state dettate da me come dice lui, buona visione Buongiorno amici del cuore nonostante quest'anno abbiamo raggiunto i 30 paesi, non ero mai stato in Piemonte e soprattutto non ero mai stato a Torino una città che mi ha sempre ispirato e mi ha sempre messo curiosità Sono appena arrivato in questa affascinante città ed è già ora di cena ecco perché oggi non c'è tempo per farmi comandare dall'intelligenza artificiale ho deciso di immagermi nell'atmosfera torinese e di gustare una deliziosa cena da por maniere Cosa c'è di meglio di una serata all'insegna delle patate alla carbonara mentre ci godiamo le ore notturne di Torino E por mangiare molto buono Adesso siamo pieni pieni e possiamo andare a dormire ma prima ci facciamo un giretto No no, eeeh Ragazzi domani siamo in spiaggia E' rimasto alla Croazia o a Fuerteventura o a Cefalonia Poi ci fanno scagliere le montagne Comunque è veramente una città mega rilassante ricorda la Trattipraga proprio soft cioè proprio decillare tutta la sera E amici con questa vista romantica sul Po vi auguriamo buonanotte ci vediamo tra poco per voi per noi domani e con la prima giornata e buonanotte Amici inizia il vero e proprio primo giorno a Torino Oggi iniziano con le quest che ci ha messo l'intelligenza artificiale le cose da vedere Colazione presso un caffè locale magari assaporando un classico blush con crema Alla fine ci siamo messi qui in piazza Vittorio Veneto e ci siamo ordinati la blush alla crema come si aveva detto l'intelligenza artificiale quindi proviamo questa blush che poi non so perché la terra è una ossa è una cosa casuale Visita alla Mole Antonelliana simbolo di Torino e al Museo Nazionale del Cinema al suo interno Adesso mentre aspettiamo che apra la Mole Antonelliana ci stiamo facendo un diretto a lungo le sponde del fiume Po e adesso è perché ce l'abbiamo anche noi attaccato attaccato a casa il Po quindi è sempre lui che ci accompagna anche qui a Torino Dai mi vado a tuffare Si tuffa La Mole Antonelliana è un iconico edificio situato nel centro di Torino, Italia Siamo saliti sopra la Mole Antonelliana non spiego quattro euro, niente Per fortuna siamo ancora ridotti e qui su è un vero spettacolo Progettata dall'architetta Alessandro Antonelli nel XIX secolo la sua costruzione iniziò come una sinagoga ma successivamente fu convertita in un monumento nazionale e sede del Museo Nazionale del Cinema Il Museo del Cinema di Torino offre un percorso espositivo della storia del cinema una collezione di macchinari storici e una galleria di manifesti cinematografici Ma è bellissimo, c'è abbastanza di cartone animato ma è bellissimo, c'è abbastanza di cartone animati Praticamente in questa sala, come in questo video, sta facendo comporre la sceneggiatura di un film all'intelligenza artificiale. Quindi di fare questo. La visita al museo è assolutamente bellissimo, super consigliato, secondo me il miglior museo che abbiamo mai visto in giro prima. Un po' anche dato dagli argomenti, che comunque il cinema mi è sempre interessato, in più ho studiato a scuola, fotografia e tutto, però veramente super consigliato, stupendo. Allora amici, questo caffè qui è alle mie spalle, è dove è stato inventato il Trammezzini. Pazzesco, mondiale. Figato. Passeggiate via Roma e perdete i ministeri della Porta del Diavolo, uno dei simboli sottili calici della città. Adesso noi come i veri turisti siamo venuti nella strada di Cristoforo Colomba a toccare il suo dito, che si dice che ne porti fortuna. No, è finito. È vero? No, è finito. Vedi che è vero? Allora siamo venuti a pranzo, a Master Sandwich, ragazzo simpaticissimo, vi straconsiglio di venirci. Cioè non ho ancora mangiato il panino, però anche solo per la sua simpatia, straconsigliato. Poi abbiamo speso niente. È buono? Mhm. E anche a farlo apposta siamo finiti a mangiare nel Duomo di Torino. E qui dentro c'è la vera Sacra Sidone, come lo si dice sia la vera. Tra un po' andiamo a visitarla. Relax nei giardini reali prima di visitare il parco più importante di Torino. Passeggiata per via Giuseppe Garibaldi e poi dirigiti al parco del Valentino. Ora siamo in Piazza Statuto, che è la piazza principale della Magia Nera, si dice. Si dice che nella sua parte alta ci sia Lucifero che indica tutti i simbolismi, tutte cose strane. Quella figata. Siamo arrivati a piedi, stiamo camminando da morire. C'è stanco? Mh? Riga, abbiamo preso il bubble tea. Buono? Io non bevo il bubble tea che adesso berrò. Dal Canada, da Toronto. Buono. Dolcissimo, ma buono. Adesso, camminando qui a casa, sento dall'occhio questa gelateria che fa il gelato di latte e basta. Con il latte premontese appena minuto. Ok, penso che se dovessi uscire un solo cibo da mangiare nella vita, questo gelato è il fine del mondo. E finalmente andiamo al Parco del Valentino, un incantevole parco pubblico situato lungo il fiume Po. Esso è uno dei parchi urbani più grandi d'Europa e offre un'oasi verde e tranquilla nel cuore della città. All'interno del parco, i visitatori possono passeggiare lungo alberate, ammirare giardini ben curati, fare un giro in barca sul Po, visitare il castello del Valentino e godere una vista spettacolare sulla città e sulle Alpi. È un luogo ideale per rilassarsi, fare jogging o semplicemente godersi la bellezza della natura in una delle città più affascinanti d'Italia. Adesso siamo nella panchina degli innamorati. Io e questi due lampioni super 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 innamorati. Sono troppo carini. Purtroppo il borgo medievale all'interno del Parco del Valentino era chiuso durante la mia visita. E ovviamente è davvero Veneto, prospissa anche a Torino. E comunque la scuola del 250 è... ed è anche buono. Per finire la giornata visita il Duomo di Torino in cui è venuta la Sindone e poi cena in un ristorante tipico. E quest'anno sono proprio un super santo. Inizio l'anno abbiamo visto il Santo Sepolcro, adesso la Sacra Sindone, anche se è nascosta dentro a una porta da Sacra Sindone. Però è affascinante. Adesso andiamo a mangiare finalmente, se non devo stare, non ne potiamo. Adesso praticamente è stato consiglio di tutta internet, parlando di Torino, siamo tutti da Cianci Piola, che è questo posto agriturismo, questo locale, ristorante in cui fanno da mangiare super economico e i prodotti tipici di qui. Quindi sono stra curioso. Allora, cenetta davvero buonissima. Mi hanno speso 10 euro a testa con anche una birra. Lui, proprio lui, mi vuole far camminare un sacco. Allora, va bene che abbiamo fatto 25 chilometri, però c'è ancora luce, il tramonto devo ancora tramontare. Sì. E quindi, volete già andare in alloggio, no? E ragazzi, questa giornata super intensa insieme è finita qua. Spero che vi sia piaciuta, a parte che ci vediamo adesso con la seconda giornata. Adesso andiamo a dormire, abbiamo trovato un compromesso. È quasi tramontato, ma non troppo. Solo che abbiamo fatto veramente tanto, se no non ci rimane più niente da fare domani. E quindi aspettiamo domani. E niente, buonanotte. Patatini, buongiorno, nuovo giorno in quel di Torino. Quest'oggi abbiamo avuto tantissime cose da fare. Nonostante ieri abbiamo fatto tantissime cose. Se la succo, ormai. Visita al Museo Egizio, uno dei più importanti al mondo per l'arte e la cultura dell'antico Egitto. E ovviamente la giornata non può iniziare con una buona banana. E siamo finalmente arrivati al Museo Egizio. Andiamo. Il Museo Egizio di Torino è uno dei più importanti musei egizi al mondo. La sua collezione vanta una straordinaria raccolta di reperti egizi antichi, tra cui mummie, sarcofagi, statue, papiri e oggetti d'arte. È stato fondato nel 1824 e ha una storia lunga e affascinante. Il museo offre una preziosa finestra sulla civiltà egizia e la sua eredità, rendendolo una tappa imperdibile per gli appassionati di storia e cultura antica. e anche il museo Egizio l'abbiamo visto. È stato bellissimo. Io vi è stato fortunato che ha speso solo un euro e non ha speso 18, ma diciamo che ne vale assolutamente la pena. è super super bello. Mega consigliato. Tra pizzino direi che ci stava proprio, abbiamo speso 7 euro a testa. Adesso andiamo a riprendersi il giornatino di ieri, di cui ci siamo letteralmente innamorati. Al pomeriggio abilita Superga e la sua basilica. Ammira la vista su Torino dalla cupola. Ora siamo saliti qua su per vedere la terra di Superga e il colle di Superga. E qua si vede tutta la vista su Torino. Un po' da distante, però si vede. Ora abbiamo preso il biglietto per salire sopra la cupola. Ha solo 2 euro, quindi figato. Il Monte Superga è anche noto per essere stato il luogo dell'incidente aereo nel 1949, in cui la squadra del Torino perse la vita. Ma torniamo in città, che abbiamo ancora qualche compito da svolgere. Ora qui alle mie spalle siamo nel mercato centrale, che secondo me è quello all'aperto, però è chiuso perché sono tutte le bancarelle tolte. Sinceramente non so dove siamo finiti, però è una figata. Ragazzi ci sono passati 20 volte, ma l'abbiamo mai notato. Qui sopra di noi, vicino a Pormangelo, c'è il palazzo con il piercing. Per cena siamo tornati nello stesso ristorante dove abbiamo mangiato la sera prima, perché offriva un'ottima combinazione di qualità e prezzo. La cena era deliziosa. Concludi la giornata nella chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini per ammirare il tramonto. Ed è scoppiato dietro di noi proprio un tramonto pazzesco. La vista più bella di Torino. In assoluto. E amici del cuore, con questo tramonto pazzesco alle mie spalle vi salutiamo. È stata un'esperienza pazzesca, ci siamo stra divertiti. Abbiamo fatto di tutto in due giorni. Siamo finiti tutto a Torino. E niente, ci vediamo settimana prossima con una nuova avventura pazzissima. Non ci vediamo in canale. Noi abbiamo trovato. E ci vediamo settimana prossima. Ciao ciao. Ciao ciao.